Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear the screaming ocean? Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi fra poco siamo in live, ciao! CREATOR!